Il 7 maggio alle 21 al Teatro dei Fluttuanti di Argenta si è svolto il 26 un concerto di primavera dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia, con la partecipazione della Corale Giuseppe Veda di Argenta in collaborazione con la Corale Quadrivium di Medicina. Dal 14 maggio al 12 giugno 2011 al Centro Culturale del Mercato è visitabile la mostra attraverso Fortini, musica, poesia, letteratura e cinema del Novecento. L'iniziativa culturale promossa in collaborazione con la Scuola Media di Argenta è dedicata alla figura di Franco Fortini, saggista, critico letterario e poeta considerato tra le personalità più interessanti del panorama culturale del Novecento. Sabato 28 maggio alle 21 sul palco del Teatro dei Fluttuanti di Argenta è andata in scena lo spettacolo di fine anno della Scuola di Danza di Stefania Masotte. Domenica 8 maggio in Piazza Garibaldi ad Argenta si è tenuta la decima edizione di Argenta in fiora. Il mercatino di fiori ha avuto espositore anche dal Veneto, Marche e Toscana. OpenBed Educational per il suo programma La Storia C'è Tu sta raccogliendo testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione al numero in sovrimpressione 0532 31 85 32. Il 20 maggio 2011 dalle 9 per le vie di Argenta si è svolta la manifestazione Argenta Città Bambina, laboratori ed animazioni per bambini.